Johnson a Ronaldinho e ora questa è una posizione che può essere pericolosa Ronaldinho ha capato, Emerson e Sedorf Lontana Emerson, ora probabilmente Ronaldinho a calciare, guarda con attenzione la porta Eccolo che parte, Ronaldinho, che gol di Ronaldinho, mamma mia che gol, che gol che ha fatto Ronaldinho 2-1, eccezionale, io mi alzerai in piedi per approvodirlo, guarda purtroppo me lo salta Eccezionale, ma come l'ha colpita, io stavo per dire con questa difesa, con questa barriera alta Nel numero 90, come fa a calciare, l'ha messa, eccezionale Guarda, ha calciato con il collo pieno, l'interno collo gli ha dato, manca un poco di giro, pochissimo Guarda dove l'ha messa Pazzesca, pazzesca punizione di Ronaldinho Guarda dove l'ha messaắng, paceza